Arriviamo a questo primo risultato, appuntamento, con numeri molto positivi, nonostante si stia uscendo dalla crisi, perché abbiamo avuto la forza, la perseveranza di gestire con rigore e buon senso le attività della banca, non indulgendo mai approcci clientelari nella gestione del credito, ma cercando di individuare sempre le positività che nel tessuto imprenditoriale dei nostri territori si prospettavano come richiedenti credito. Oggi veniamo fuori con un risultato economico di 1.200.000 euro di utili, che è più del doppio rispetto a quello che abbiamo conseguito mediamente negli ultimi anni di crisi, e un livello di patrimonializzazione che tende ormai al 20%. Una banca che ha comunque mantenuto una capacità di ascolto molto forte verso i territori, ma ha anche la capacità di selezionare le iniziative imprenditoriali e quelle dei richiedenti crediti in generale, meritevoli di essere accompagnate, di fatto non ostacolando la selezione naturale che purtroppo il periodo di crisi naturalmente comporta. E questo ci consente di dire ai nostri depositanti, ai nostri risparmiatori, che la banca è molto sana, molto solida. Un'altra novità importante è la scommessa che stiamo facendo sui prodotti green, perché stiamo cercando di sviluppare, abbiamo sviluppato dei prodotti, proprio per chi ha l'esigenza di sostituire un elettrodomestico, per esempio con un altro di classe A, risistemare l'appartamento in cui si abita attraverso l'adozione di misure energetiche idonee, comprare la bicicletta elettrica o l'auto elettrica, con tassi particolarmente convenienti, perché riteniamo il rispetto all'ambiente assolutamente una priorità.